Salve a tutti ragazzi, un saluto da Antrimereo. Allora, in questo video volevo darvi una comunicazione, un aggiornamento rispetto ad una iniziativa che in qualche modo è pervenuta direttamente da voi, nello specifico da uno di voi che saluto e ringrazio Nicola Bessi. Grazie veramente tanto che nella giornata di domenica sotto uno dei miei video, nello specifico quello in cui ringraziavo la società Crotone per il bel gesto che ci permetterà molto probabilmente di giocare il primo giro in trasferta, quindi per avere più tempo per completare il lavoro della sede venena, sotto quel video lui praticamente mi ha consigliato una collaborazione, una sorta di collaborazione con il canale SickWolf, nello specifico con il ragazzo Simone che appunto gestisce il canale YouTube che come sapete ha più di 100.000 iscritti, tratta di Roma ma in generale di calcio, calcio nazionale, internazionale, tratta di qualsiasi tema legato al calcio ma soprattutto lo sport in generale. È un canale molto molto seguito da parte di questo ragazzo che è molto attivito su YouTube da diversi anni. Nello specifico Nicola mi ha ricordato giustamente, perché ne ero già un po' conoscenza, che Simone sta praticamente in questo momento facendo una sorta di rubrica che si chiama il mercato di affarei, cioè prende una singola squadra di Serie A e fingendosi, facendo finta di essere il direttore sportivo di quella squadra, va a in qualche modo analizzare le varie rose e dire ok, secondo me questi giocatori vanno tenuti, bisogna cedere questi, bisogna acquistare quest'altro. Quindi è un giochino molto bellino, molto interessante, che effettivamente prende bene insomma quando uno lo guarda, perché comunque ti fa capire quelle che potrebbero essere delle prospettive in base ovviamente al tipo di obiettivo che la squadra del prossimo anno potrebbe avere. Nello specifico per ora il Cagliari non è stato ancora adattato, quindi Nicola giustamente mi ha detto prova a contattarlo perché magari insomma può nascere una sorta di collaborazione dove tu che conosci il Cagliari potresti consigliarli eventualmente, soprattutto chi eventualmente cedere o magari anche chi acquistare. Io quindi insomma ho preso la palla al balzo, l'ho contattato sulla sua pagina Facebook e nella giornata di ieri, se nello specifico ieri sera, mi ha risposto, dice tutto ringraziandomi e dicendomi che avrebbe sicuramente guardato i miei video. Ora non so da questo punto di vista se potrebbe nascere una collaborazione in questo senso, so che lui mi ha assicurato che guarderà i video e magari potrebbe prendere anche qualche spunto interessante. Il mio augurio magari è che quando arriverà a fare il video il mercato del Cagliari possa eventualmente citarvi dicendo che ha preso spunto anche dai miei video, non specifico dai pagelloni che gli ho girato proprio tramite la chat della pagina Facebook proprio con cui gli ho consigliato di vedere quelli perché era lì dove appunto dava un giudizio su tutti i giocatori. Ragazzi, vi chiedo eventualmente, tutti gli iscritti del canale, per magari fomentare, per stimolare questa possibile, probabile o impossibile, non lo so, collaborazione con SeacWolf, di magari andare direttamente sul suo canale, sui suoi contenuti, nello specifico gli ultimi, che andrà a caricare e magari scrivere appunto su un tipo del Cagliari, seguo Andre Mereu, perché te e Andre Mereu non fate una collaborazione, magari più siete e più questa potrebbe essere una cosa interessante che potrebbe proprio a Simone, in arte e SeacWolf, far, come dire, venire la voglia di mettere in pratica tutto questo. Ragazzi, quindi non mi resta che attivarvi, fare questa cosa, questo piacere per me, insomma, perché sicuramente se vogliamo crescere, se vogliamo far sì che questo canale YouTube possa crescere, continuare a crescere, la differenza avrà avuto la parte di solamente voi. Quindi conto su di voi, fatemi sapere, insomma, se avete fatto questa opera di bene, tra virgolette. Ovviamente noi ci vediamo presto con tanti nuovi video. Ragazzi, per chi non si fosse ancora iscritto al canale YouTube, lo faccio assolutamente. Mentre mi piace anche la pagina Facebook, condivida questo video, condividete questo video, perché ripeto, più siamo e meglio. Un saluto a tutti, forza Casteldo a tutti i tifosi del Cagliari e in generale viva il calcio. Un saluto a tutti, ci vediamo presto. Ciao, ciao.